Ben trovati a Notizia di Prato Tg, allora il prefetto e il questore hanno dato il via libera alla manifestazione organizzata da Forza Nuova per sabato prossimo e naturalmente l'Ok l'ha ricevuto anche il presidio antifascista che si terrà in piazza delle carceri nel pomeriggio come risposta all'evento di Forza Nuova. Secondo la prefettura e la questura non ci sono gli estremi per l'apologia del fascismo e nemmeno rischi per l'ordine pubblico. Naturalmente il sindaco Matteo Biffoni è contrariato. Sentiamo Alessandra Grati. La manifestazione di Forza Nuova organizzata a Prato per il 23 marzo, giorno in cui ricorre il centenario della nascita del fascismo, si svolgerà regolarmente. Il prefetto Rosalba Scialla e il questore Alessio Cesareo non ritengono che ci siano motivi per vietare il corteo. Ha autorizzato anche il presidio antifascista in piazza delle carceri, voluto da numerosi gruppi, partiti e movimenti che hanno raccolto migliaia di firme con una petizione online. Dunque per sabato prossimo si annuncia una giornata campale per Prato, con due manifestazioni in contemporanea e il rischio che la situazione possa degenerare. La decisione è stata presa durante il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che si è riunito questa mattina in prefettura. In questa sede però è stato fatto un richiamo a tutti, nel senso che le istituzioni, la società civile deve assumersi le proprie responsabilità. Non esasperare questo clima perché la Costituzione che vige a tutt'oggi dice che c'è la libertà di pensiero e di manifestazioni. E a proposito di Costituzione, il prefetto non ritiene che la manifestazione di Forza Nuova sia anticostituzionale. Le due leggi che lei ha citato riguardano l'apologia, la ricostituzione del partito fascista. Qui non si deve ricostituire nessun partito perché noi agli atti abbiamo una domanda per manifestare sul tema dell'immigrazione. Intanto il questore, che non ha ravvisato rischi per l'ordine pubblico, ha già messo in moto la macchina organizzativa. Tenete conto che ci sono altre manifestazioni sul territorio nazionale che vanno valutate anche sotto questo aspetto. Vedremo all'ultimo momento quale sarà il dispositivo più idoneo da adottare. Per le manifestazioni certamente noi intendiamo blindare una città e dare la possibilità a tutti meno che stare. A conferma che la manifestazione ci sarà, al Comune è stato chiesto di predisporre il piano dei divieti di sosta lungo il percorso. Il sindaco presente alla riunione del comitato è apparso molto contrariato, anche se ha evitato di fare polemiche. Io ho segnalato la tensione in città, segnalo che questa manifestazione, secondo il mio parere, non è una manifestazione che va fatta. Soddisfazione per la decisione di non vietare la manifestazione arriva da Massimo Nigro, candidato sindaco di Forza Nuova. Le cose giuste, corrette, costruite per il bene della città, afferma Nigro, prevalgono sempre sul male. A proposito del candidato sindaco di Forza Nuova, Massimo Nigro, ieri sera al programma La Zanzara ha rilasciato dichiarazioni molto forti sui gay, su Mussolini e anche sulle svastiche, ad esempio al gay pride, scimpanze che si baciano. Ma sentiamolo in questo servizio. Sono dichiarazioni molto forti, quelle rilasciate dal candidato sindaco di Forza Nuova, Massimo Nigro, la trasmissione di Radio 24, La Zanzara, andata in onda ieri sera. Contattato telefonicamente per l'attenzione che in questi giorni il movimento di estrema destra sta ricevendo per la manifestazione nazionale che si terrà a Prato sabato prossimo, Nigro ha risposto alle domande su Mussolini. Mussolini è nel cuore della gente. Cioè, secondo me è stato un grande statista? Secondo me dobbiamo prendere degli esempi da lui, certo. Sì? Tipo? Sì, ma ha fatto tutte le bonifiche. Poi? Ma sicuramente ha fatto tanto anche per i lavoratori dipendenti. Sugli omosessuali che si baciano in pubblico? A me dà fastidio il gay pride, perché sono quelle feste carnevalesche dove se uno passa con un bambino piccolino e vede tutti questi scimpanze, tutti nudi, a baciarsi e travestiti da carnevale. Mentre sulla svastica... No, no, io dico che il resto è indifferente, perché è una cosa che ci incendono anche a scuola. A me dà più fastidio quando si ammazzano le ragazze modello Desiree. Cronaca, colpo grosso dei ladri che nel tardo pomeriggio di ieri hanno svaliggiato una casa in via Don Minzoni a Montemurlo. Il furto è stato scoperto verso le 20 quando i padroni di casa sono rientrati per la cena. Hanno trovato la porta blindata forzata, l'abitazione messa a suo quadro e soprattutto le due casse forti aperte con un flessibile. immediato l'allarma ai carabinieri che hanno subito avviato le indagini, i ladri hanno portato via monili in oro, gioielli e denaro contante per circa 10.000 euro di valore. Rifiuti bruciati direttamente nel campo, operai senza contratto. Queste altre irregolarità sono state riscontrate durante un controllo interforze in un'azienda agricola cinese di Carmignano, coordinato dai carabinieri forestali, che hanno denunciato il titolare per violazioni in materia ambientale e per il mancato rispetto delle leggi sul lavoro. Sequestrate varie decine di sacchetti di sementi recanti scritte soltanto in lingua cinese in violazione della legge. Tutti gli otto operai trovati nei campi e nelle serre erano senza contratto, complessivamente sono state elevate sanzioni per oltre 10.000 euro. Parliamo ora di economia circolare perché da domani fino a domenica Prato diventa capitale di questo argomento che sarà declinato in modo artistico, musica, teatro, esibizioni varie in tutta la città. Sentiamo. Sono ben quattro i sindaci del Pratese che siederanno nel Consiglio provinciale presieduto dal quinto primo cittadino Francesco Pugeli di Poggio a Caiano, Matteo Biffoni di Prato, Giovanni Morganti di Vernio, Primo Bosi di Vaiano e Guglielmo Buongiorno di Cantagallo. Ieri si sono svolte le votazioni per il rinnovo di questo organo che con la riforma delle province è diventato di secondo grado e come tale non è più a elezione diretta da parte dei cittadini. Potevano votare i 119 consiglieri comunali dei 7 comuni della provincia. Lo hanno fatto il 98, pari all'82,3%. La lista di centro-sinistra ha ottenuto 8 seggi, mentre quella di centro-destra 2. Oltre ai quattro sindaci sono stati eletti Paola Tassi, consigliere comunale PD di Prato, Dario Di Giacomo, consigliere comunale PD di Carmignano, Federica Palanghi, consigliere comunale PD di Montemurlo, Paola Vettori, consigliere comunale PD di Poggio a Caiano, Francesco Calugi, consigliere comunale di Forza Italia a Carmignano e Diletta Bresci, consigliere comunale della Lega a Poggio a Caiano. Tale consiglio rimarrà in carica per i prossimi due anni. Soddisfatto il presidente della provincia, Francesco Puggelli. Da una parte di dare rappresentanza a tutti i comuni della provincia. Sono stati eletti consiglieri provinciali che provengono dai comuni di Cantagallo fino al comune di Carmignano. Ogni comune è rappresentato. Rappresentato anche attraverso i sindaci, a dare un maggior segnale di legame con le comunità, con i comuni e con tutto il territorio dell'area. Era ovviamente il servizio sull'elezione del nuovo consiglio provinciale e non sul festival RICO che manderemo in onda tra pochi minuti. Prima due notizie di cronaca. Drammatica corsa contro il tempo con staffetta telefonica tra la questura di Prato e una stazione carabinieri del Viterbese per salvare una donna che aveva tentato di uccidersi ingerendo 40 pasticche di farmaci antidepressivi. L'allarme è scattata alle 20.40 di ieri quando l'ex fidanzato della donna, un pratese, ha chiamato il 113 per chiedere aiuto dicendo di temere per la sorte dell'ex ora residente nella provincia di Viterbo. Il poliziotto di turno ha subito contattato i carabinieri del posto riuscendo a risalire all'indirizzo della donna raggiunta in estremisi dai soccorritori e salvata con una lavanda gastrica. Ed è stato notato mentre cedeva ad un altro giovane un involucro poi risultato essere una dose di eroina, il tutto ieri sera sotto gli occhi di una pattuglia in borghese dei carabinieri di Montemurlo che hanno arrestato un nigeriano 37 anni senza fissa dimora con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari impegnati in servizio di controllo del territorio in abiti civili nella zona del centro storico di Prato hanno assistito ad uno scambio sospetto tra due giovani che sono stati poi immediatamente raggiunti e fermati. E allora adesso vediamolo il servizio sul festival dell'economia circolare che si apre domani a Prato. Moda, cibo, turismo e architettura sono i quattro argomenti in cui sarà declinata la grande sfida dell'economia circolare attraverso musica, teatro e incontri. È il festival Reco che da domani al 24 marzo colorirà Prato città che ha una lunga tradizione di riuso in campo tessile e molti primati ecosostenibili in fatto di depurazione delle acque industriali e di trasformazione del patrimonio edilizio. L'idea della quattro giorni di eventi promossa da Comune di Prato, Regione Toscana e Toscana Promozione nasce proprio dalla volontà di valorizzare le buone pratiche territoriali. Da tanto tempo a Prato facciamo le cose fatte bene ma non le raccontiamo a nessuno. È arrivato il momento di dirlo al mondo noi siamo veramente avanti nell'economia circolare. L'inaugurazione si terrà domani alle 18.30 al Polo Campolmi con un aperitivo circolare. La prima giornata del festival partirà alle 10 nella sede del Consorzio Santa Trinita con la presentazione della performance Do You Care con Katia Giuliani e Paolo Mereu prodotta dal Metastasio. Due performer vivranno lo spazio, chiederanno alla cittadinanza di portargli da mangiare, da vestire, da dormire e generi di conforto. Quindi chiediamo veramente a tutte le persone sensibilizzate che chiaramente deve essere fatto tutto secondo i principi della sostenibilità dell'economia circolare. Al Metastasio abbiamo due grandi appuntamenti quello di venerdì sera con Elio e con Proseda che tra l'altro è un pianista pratese e sabato abbiamo una bella serata con Mac Cox che parlerà di politici riciclati e avrà molto da dire con il Lercio che dal virtuale arriveranno al reale e con Don Pasta che cucinerà mentre parlerà di cibo a chilometro zero. Tra cinema, cucina povera che diventa gourmet e i gruppi mascherati del Carnevale di Viareggio si arriverà all'evento conclusivo di domenica sera alla Manteco con la performance di Chincaleri. Domenica mattina sarà possibile vedere con i propri occhi tre aziende del Pratese altamente sostenibili. A pochi giorni dalla scomparsa della moglie Adriana Enzo Tofani storico dirigente di Confartigianato Prato si è reso a una malattia con cui lottava da tempo. Enzo Tofani lascia il figlio Giancarlo è stato iscritto in associazione fin dall'inizio della sua attività di tessitore categoria per la quale si è sempre impegnato a fondo rivestendo per lunghi anni ruoli e cariche importanti come quella di vicepresidente di categoria e altri incarichi istituzionali. La salma è esposta alle cappelle della Misericordia in via Convenevole 55 e domani alle 9.30 si svolgeranno i funerali nella chiesa dell'Immacolata Concezione in via 7 Marzo a Galcetello. Era l'ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito vi auguro una buona serata.